Lo so perché sei qui e guardi verso me Perché io sono il sole Ragazzacci, grazie di aver visitato il canale YouTube ufficiale di The Voice Prima di andare via, cliccate qui Ragazzacci, per continuare a vedere questo video e molti altri potete cliccare su thevoiceofitaly.rai.it This is The Voice Grazie a tutti Grazie a tutti